Giovanni Falcone è un eroe. Costretto a vivere 16 ore su 24 in un piccolo ufficio di acciaio e cemento per lottare contro la mafia, non può assaporare i piccoli piaceri della vita quotidiana. È vero quello che dicono? Diciamo che c'è molto di vero, sì. Indubbiamente questo tipo di attività incide pesantemente sulla privacy. Questo non c'è dubbio. E come lo vive lei? Direi con rassegnazione. Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, a non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo. Ultimamente non è più coraggio e inconscienza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS